E bella a tutti ragazzi, benvenuti nel primo episodio del Jassas Garage Oggi siamo qui con questo nuovo video che è stato votato su Instagram Quindi se non mi seguite su Instagram andateci perché faccio dei sondaggi per vedere insomma quali categorie di video vi interessano di più Jassas Official E oggi come promesso siamo qui a fare un po' di manutenzione ordinaria al 701 Mi limiterò solamente a fare un rabocco dell'olio e a farvi vedere altre due cose molto importanti La prima è come togliere e mettere il DBKiller allo scarico E la seconda è come pulire i cerchi con su il Placidip Sfrutto questa occasione anche per rispondere proprio a questa domanda che mi fate in qualcosa come un milione di persone Cioè i tuoi cerchi sono verniciati? Sì, sono verniciati ma non con la vernice normale a polvere ma con il Placidip Che se non la conoscete è una specie di vernice a pellicola che si può applicare su diverse cose In particolare diciamo parti di plastico, di metallo ma l'importante è che sia abbastanza lisci E vi dà la possibilità di dipingere appunto, di verniciare e successivamente di rimuovere la pellicola E tornare diciamo al colore originale che c'era sotto Mi sono dimenticato lo specchiatore 701 aperto, vado a chiuderlo Porcheri con la troia iniziamo già male Allora la prima cosa che voglio farvi vedere è appunto cosa serve per fare questi lavori Abbiamo un secchio d'acqua che ci serve per pulire i cerchi La spugna e il sapone che servono apposta Per i Placidip Il DB Killer, la chiave per la vita del DB Killer Una pinza E l'olio per fare manutenzione Quindi direi di procedere con la prima cosa Che è quella un po' più rapida Che sarebbe come reinserire il DB Killer Vedete che il DB Killer sotto ha un foro Proprio in prossimità di questo forallino che c'è nel carbonio Quindi inseriamo il DB Killer Procediamo a reinserire la sua brugolina Che secondo i miei calcoli dovrebbe andare su senza problemi Ok Come potete vedere il dadino del DB Killer e il buco sullo scarico sono allineati bene Quindi inseriamo la vite Non c'è bisogno di stringerla tanto perché è una vite molto piccola Quindi quando siete arrivati a battuta date una strettina, un quartino di giro E il DB Killer è fissato e l'abbiamo rimesso al suo posto Ora passiamo alla seconda cosa che è il rabocco dell'olio Io sto facendo questi lavori sul 701 ma funzionano esattamente nello stesso modo per tutte le moto Quindi c'è sempre un tappo per il rabocco che bisogna svitare, pulire, fare il rabocco e richiudere Vi ricordo comunque in ogni caso di guardare sempre il libretto di manutenzione della vostra moto Perché c'è scritto tutto anche come fare il rabocco Quindi seguite quello e siete sicuri di non sbagliare Ed eccoci qua ragazzi Adesso vi faccio vedere come raboccare l'olio Che è un processo semplicissimo Prima di tutto dovete controllarne il livello Quindi guardate attraverso lo bloc che c'è normalmente nel blocco motore In questo caso l'olio è a livello minimo Non si vede molto perché è in ombra ma vi posso assicurare che è al minimo Mi raccomando prima di leggere il livello dell'olio La moto deve essere sempre dritta Quindi non sul cavalletto perché altrimenti la lettura è falsata La moto è a motore freddo In modo che tutto l'olio presente nel motore defluisca nella coppa Che in questo caso non è proprio una coppa ma diciamo che è una coppa dell'olio Poi seconda cosa da fare Svitare il tappino del rabocco Aia ho preso una gomitata contro la bedana Ecco qui ora che il tappo è stato aperto Possiamo inserire l'imbutino che ci dà una mano a non far colare fuori l'olio Perfetto Consiglio di farlo poco alla volta perché l'olio è abbastanza denso quando è freddo Quindi fa fatica ad andare giù E se esagerate nel metterlo rischiate che vi strabordi fuori Perfetto Spero che adesso si veda qualcosa Non so se vedete ma adesso il livello dell'olio è più o meno a metà Quindi continuiamo ad aggiungerne sempre con calma in modo di non strabordare Mi sono fatto male Dopo che siete sicuri che il livello è stato fatto E che tutto l'olio che doveva andare è andato Chiudete il tappino del rabocco E abbiamo fatto anche il rabocco Ed eccoci tornati ragazzi Siamo qui con l'ultimo lavoro di oggi Che è la pulizia del Placidip Che consiste nel prendere questa fantastica spugnetta Buttarla nell'acqua Aggiungerci questo prodotto miracoloso È il sapone dei piatti dell'S Lunga Ne rovesciamo un goccino qui dentro Adesso che la spugnetta è inumidita col sapone Passiamo alla seconda fase che sarebbe quella di Tamponare il Placidip con la spugnetta bagnata di sapone E voi direte già ma che cazzo stai facendo? Questo lavoro non serve a un cazzo E invece io vi assicuro che funziona e come Voi prendete il sapone Ne mettete un goccino piccolino su Placidip Così Non tanto eh Lo passate con il dito Molto delicati ragazzi Perché il Placidip purtroppo si tira via Io ovviamente non vi farò vedere tutto il cerchio Perché sarebbe un arturo di palle infinita Ma vi farò solamente vedere una parte del cerchio Per rendervi conto di come viene il lavoro finito Con delicatezza, non come dei muratori Con molta calma Passiamo la spugnettina Come potete vedere Lo sporco viene via abbastanza agilmente E senza troppe bestemmie Mi raccomando anche con lo straccio Pianino Perché il Placidip è abbastanza delicato Non tanto ma abbiatene comunque Cura mica di fare danni Ed eccoci ragazzi arrivati alla fine Come vi ho detto non vi ho fatto vedere tutto il cerchio Ma solo un pezzettino per farvi capire Come funziona il lavoro Che è lungo ragazzi Quindi non posso farvelo vedere tutto Io ragazzi vi saluto Per oggi abbiamo finito Vi ringrazio come al solito Vi ricordo la mia pagina Instagram JustOfficial Ricordate di seguirmi Una grossa via a tutti ragazzi E ci vediamo ad un prossimo video